numero 5 questa smart tv hdr è pieno di funzioni intelligenti ed opzioni in connettività dispone di altoparlanti integrati arman kardon di qualità con dts virtual x ha integrato chromecast google assistant e tecnologia bluetooth le tre porte hdmi sono predisposte per un segnale ultra hd 4k risoluzione di 3840 per 2160 pixel con frequenza di aggiornamento da 60 hertz ideale quindi se vorrete collegare un lettore blu-ray o una ps4 pro per gaming alla massima risoluzione numero 4 ideale per riprodurre film e serie tv a risoluzione ultra hd e hdr 10 più è dotato di tecnologia ambilight che crea effetti di luce sul muro retrostante ha anche il supporto per dolby vision hdr il supporto per dolby atmos che crea una sensazione di immersione straordinaria casse integrate da 2 per 10 watt down firing questo modello è inoltre provvisto di modalità a bassa latenza per poter essere utilizzato con ps4 e xbox con frequenza di aggiornamento di 60 hertz se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 questo modello è consigliato sia per film che per gaming è veloce scattante nelle operazioni con un menu ben organizzato e semplice da utilizzare consigliato anche per resa dell'immagine opzioni in connettività e funzioni smart la caratteristica principale è il pannello crystal display 4k con risoluzione 3840 per 2160 e la capacità di eseguire l'upscaling a ultra hd è dotato anche di collegamento bluetooth per ascoltare l'audio con cuffie sund bar o casse bluetooth esterne numero 2 questo televisore della sony a dimensioni dello schermo di 43 pollici una risoluzione del display di 3840 per 2160 pixel tipologia hd 4k ultra hd tecnologia display lcd con forma dello schermo piatto e pannello ips con angoli di visione 178 gradi retroilluminazione edge led dotato di smart tv tecnologia di interpolazione del movimento motion flow xr 1000 hertz si può collegare tramite wifi il suo peso è di 10,8 kg acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 1 samsung smart tv q60 r qled 4k quantum hdr per immergiti in un miliardo di tonalità di colore con processore quantum 4k funzione ambient mode e con l'esclusiva tecnologia quantum dot di samsung questo monitor qled arriva al 100 per cento di volume colore per regalarti colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose ha una cornice sottilissima schermo da 43 pollici risoluzione ultra hd 4k connettività smart tv pannello e retroilluminazione a led si può fissare a muro tramite il supporto vesa 200 per 200